Cari amici, benvenuti ad una nuova lezione di Scuola di Civicness. Oggi parlerò della globalizzazione. Incominciamo dal considerare alcune definizioni di globalizzazione. Il primo a parlarne fu Theodore Levitt che ha reso popolare il termine in un articolo intitolato Globalizzazione dei mercati che apparve nel 1983 sulla rivista dell'Università di Harvard. Successivamente due sociologhe Martina Albrov e Elizabeth King definirono la globalizzazione come tutti quei processi attraverso i quali le persone di tutto il mondo vengono incorporate in una singola società globale. Anthony Giddens scrive che la globalizzazione può essere definita come l'intensificazione delle relazioni sociali globali che collegano località distanti in un modo tale che gli eventi locali vengano modellati da eventi che si verificano a molte miglia distanti e viceversa. A sua volta Roland Robertson ha definito la globalizzazione come una compressione del mondo e una intensificazione della coscienza mondiale in quanto insieme. E concludiamo con un'affermazione del sociologo Zygmunt Bauman che scrive che la globalizzazione divide quanto unisce. divide mentre unisce e le cause della divisione sono le stesse che, dall'altro lato, promuovono l'uniformità del globo. Insomma, ognuno di loro ha una diversa opinione a seconda di quale stadio della globalizzazione analizza oppure dal punto di vista in cui la analizza.